Allora, oggi è 22 gennaio del 2012 e stiamo organizzando un flashmob per la Siria. Questo flashmob consiste nella rappresentazione di vari ruoli di ciò che accade attualmente in Siria e di dare un sostegno al popolo siriano, appunto, che è sotto un regime corrotto. Molti personaggi in questo giorno prenderanno delle bandiere e si appungeranno a terra. Ciò che sta facendo, ciò che sta succedendo in Siria attualmente e appunto possiamo dire che diamo questo sostegno al popolo siriano in generale e spero un giorno che la Siria sia libera. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.